Stiamo ripartendo proprio in questi giorni, le richieste delle scuole sono già pervenute dal mese di settembre, ormai arrivano da tutta la Sicilia. Questa volta allarghiamo il raggio di azione anche alle famiglie e ai docenti, perché si è capito che se i docenti in primis non riescono a stare aggiornati sulle nuove applicazioni, le nuove tendenze, le nuove mode dei ragazzi hanno già la difficoltà iniziale ad avere un dialogo con gli stessi ragazzi. Quindi faremo anche degli incontri pomeridiani con i docenti, lo allarghiamo ai genitori, perché infatti dico sempre che tu puoi avere uno splendido rapporto con mamma e papà dove racconti tutto ciò che avviene nella vita reale, ma nel momento in cui puoi raccontare ciò che avviene nella vita virtuale ti si alza un muro perché vanno a spiegare a tua madre o a tuo padre che cos'è una challenge o TikTok o Instagram o le altre applicazioni di nuove tendenze. E quindi oltre ai genitori continuano anche gli incontri con gli stessi ragazzi, già chiamano anche dalle quarte elementari perché il problema si sta allargando sul corretto utilizzo dei social. Bullismo e cyberbullismo ormai abbiamo capito che è tutto anche collegato e soprattutto collegato al cattivo utilizzo dei social. E appunto dobbiamo fare massima attenzione e controllare in primis i nostri ragazzi proprio con lo smartphone. Lo stesso procuratore Gratteri in una sua conferenza lancia il primo allarme sul corretto utilizzo dei social. Infatti lui sostiene che proprio la criminalità organizzata ha iniziato a utilizzare i social proprio per cercare di deviare la mentalità dei nostri ragazzi dando cattive informazioni. Anche contro le stesse forze di polizia, inventando anche leggi inesistenti e quindi dobbiamo far capire ai ragazzi che il messaggio che passa sui social deve essere quello corretto e non le cattive informazioni. Già abbiamo iniziato con alcune scuole di Palermo, le altre scuole di Bagheria, poi abbiamo Sant'Agata, Capodorlando, Messina, Catania. Hanno chiamato molte scuole dell'entroterra, Cerda, Montemaggiore e Belsito e tante altre scuole di Termini Merese. Quindi mi dividerò, correrò ma ho garantito che entro fine maggio riuscirò a visitare tutte quelle scuole.